Tempo di carnevale, siamo a San Giovanni Valdano, siamo con il presidente della società del carnevale Mauro Bighellini e dunque nella città del Marzocco quest'anno torna il carnevale. Con i carri? Quest'anno torna il carnevale a San Giovanni perché abbiamo rifatto la nuova società e con i nuovi consiglieri abbiamo deciso di giocare tutto su questo carnevale, vorremmo provare a far rinascere il carnevale a San Giovanni tornerà a Reggio Condo, ci sarà un carro in cui è dedicato proprio a Reggio Condo e poi abbiamo messo insieme un po' di scuole di ballo che faranno animazione durante la sfilata, ci sarà la Tarantella di Rignano una vecchia banda tipo gli scafati e poi cerchiamo di animare San Giovanni. Le date? 2 e 4 marzo, domenica e 2 marzo e il 4 e il martedì grasso e il martedì carnevale.